del ROF. Sempre più in difficoltà il settore marchigiano del cinema, passiamo dunque, restiamo dunque sempre sugli spettacoli e dell'audiovisivo nonostante una crisi iniziata a marzo ci sono ancora società e lavoratori esclusi dal sostegno economico dello Stato. Pierpaolo Rivalta. Buio in sala, locandine stinte, porte chiuse, per il cinema una traversata nel deserto. Il gruppo Giometti ad esempio, 54 schermi nelle marche, 130 dipendenti in Cassa Integrazione, deve fare i conti con una situazione critica. Fatturiamo più di 5 milioni, quindi le aziende che fatturavano più di 5 milioni non avevano diritto a nessun ristore, questo è inconcepibile perché non è che una ditta se fattura di più vuol dire che guadagna di più. Ma le sale sono solo la punta più visibile della crisi del settore, tante categorie sono rimaste escluse anche dai più recenti ristori. Nelle marche sono circa 250 aziende, quasi 300 anzi, che lavorano sull'audiovisivo, sempre poco finanziati e sempre poco ristorati in questo senso, quindi abbiamo assolutamente bisogno di certezze, ma assolutamente bisogno di ristori per il nostro comparto. Da marzo cinema e audiovisivo non sono mai veramente ripartiti, il settore è incagliato, la crisi avanza. Il 28 purtroppo il ministro Franceschini ha fatto la deroga anche su questa legge che i film prima di passare sulle piattaforme o un video dovrebbero passare al Cino, quindi questa è stata abrogata, è stata fatta una deroga dove i film adesso possono andare direttamente sulle piattaforme e questo ci mette, prima eravamo in ginocchio e adesso siamo stesi. Assolutamente abbiamo bisogno che ci sia un'interlocuzione primaria con il nostro settore, abbiamo bisogno di parlare dei nostri problemi, abbiamo bisogno che le nostre aziende crescano in questa regione.